Dov'è! Dov'è! Tiratore sento! Occhio aperti! Assaltatore, teniamolo d'occhio! Questo mezzo deve essere riparato! E chi non è mica fatta la macchina? Attenzione! Assaltatore nemico! Occhio! Buon quartiere! We have taken objective, Charlie. Vedo un medico nemico! Vedo un assaltatore nemico! Pezzo d'artiglieria nemica avvistato! Ricognitore nemico, laggiù! Laggiù! Un assaltatore nemico! Ehi! Vedo un assaltatore! Ho visto un medico! Ho visto un assaltatore! Ho un medico a tiro! Un assaltatore nemico! Ne ho trovato uno! Medico nemico individuato! Un assaltatore nemico! Un assaltatore! Un assaltatore nemico! Facciamo attenzione! Un assaltatore nemico! Quello è un medico, giusto? Un assaltatore nemico! Un assaltatore nemico! Un assaltatore nemico! 미안are! Un assaltatore nemico! Sardatore nemico! Ahà! Ah! Ho visto un soldato! Visto! Uno dei loro soldati! Ehi! Là c'è un soldato! Contatto visivo con un soldato nemico! Vedo un medico! Occhio! Un soldato nemico! Là c'è un soldato nemico! No! 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 We have taken objective Edward! Assaltatore! Teniamolo d'occhio! Medico nemico! No! Laggiù! Un assaltatore nemico! Un aereo! Laggiù! Un aereo! Laggiù! un aereo! trois! No! Non ho rather! Non lo sento! Siamo evitati che sinero. Non lo sentiamo! Non lo sentiamo! Non lo sentiamo! Lusci! Il soldato è un nemico individuato! Abbiamo preso gli obiettivi. Occhi aperti! C'è un assaltatore! Occhi! In quel caso? Occhi! 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 We have lost Objective Edward We have lost Objective Butter C'è un assaltatore! C'è un assaltatore! Ehi! Vedo un assaltatore! Un assaltatore nemico! Ne ho trovato uno! Un assaltatore nemico! Vedo un assaltatore nemico! Vedo un assaltatore nemico! Un assaltatore nemico! Vedo 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 uno! Non lo so! Vedo! Vedo un assaltatore nemico! We have taken Objective Butter We have lost Objective Freddy We have lost Objective Charlie We have lost Objective Butter We have lost Objective Charlie We have taken Objective Dark Ho individuato una mitragna atrice Assaltatore nemico, facciamo attenzione We have taken Objective George We have taken Objective Grazie per la visione!